ciao a tutti amici eccoci qua col nuovo video della casetta da 4 metri e mezzo per 3 dove come vedete i lavori stanno procedendo abbastanza bene come dici nel primo video è un lavoro che faccio un po nei ritagli di tempo quando riesco e quindi insomma come lavoro è risultato un po lungo però insomma dai adesso piano piano qualcosa si inizia a vedere allora dall'ultimo video che ho fatto praticamente ho continuato a salire su un po con le pareti per rinforzare un po tutta la struttura ho quasi finito tutta la parte dietro che adesso a questo momento faccio un po fatica ad andare perché ci sono ancora un po troppi ostacoli per muoversi bene e poi niente sono magari ve lo faccio vedere adesso piano piano dall'interno e niente come vedete sono salito ho finito praticamente la parte anteriore di questa parete come vedete sono arrivato fino praticamente alle capriate sopra dopo lì ancora non avevo preparati quindi e quindi mi sono dovuto fermare intanto vi faccio vedere le pareti dove sono arrivato e poi dopo passiamo alla parte del tetto ecco come vedete questa è l'altra parete che verso la casa mentre la parete praticamente la parte posteriore è ultimata mi manca proprio quello spicchio di dietro che farò con le rimanenze dei ritagli dei pezzi che sono andato a utilizzare così non si butta via niente ecco la parte diciamo più grande che mi rimasta è questa qui che nel weekend dovrei finire anzi no ultimamente mi sono concentrato nel tetto perché come vi dicevo lo spazio a me disponibile è diventato davvero poco difatti come vedete sto già iniziando a riempire con le cosine nuove che mi entrano e quindi devo 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 andare avanti con il tetto con il tetto la copertura cosa che ho iniziato a fare allora da un po vedere le nostre capriate che ho preparato allora ho preparato sette capriate come vedete l'ho fatto un normale tetto spiovente fatto normale tetto spiovente per far prima comunque viene bello lo stesso insomma come risultato ecco preparato le sette capriate la lunghezza della parte sotto è di tre metri mentre la parte diciamo inclinata è di tre metri e 40 ho usato un inclinazione di circa 45 centimetri potevo fare anche un po meno ma va bene così ma va bene così ogni 70 centimetri ho messo i listelli per rinforzare le capriate e poi ho iniziato a fare la copertura con il con i listelli di legno nella prima parte diciamo questa parte a sinistra ho lasciato 80 centimetri tra una capriate l'altra e esternamente ho lasciato 10 centimetri per una sorta di scolo là fuori e poi via via tutti 80 centimetri mentre la parte centrale l'ho lasciato circa un metro e quaranta circa un metro e quaranta perché i listelli sono da un metro e quarante quindi insomma per velocizzare tutto ho preferito far così e la dietro ho già messo una guaina ho già messo una guaina per iniziare proprio la copertura dal momento che sto già mettendo dentro il legno sto già iniziando a mettere dentro del materiale si sarà un deposito anche questo alla fine almeno per il momento sarà così andiamo a vedere un attimo aspettate mi sposto cerco di fare meno vibrazioni possibili però purtroppo qui è tutto un cantina ancora quindi ecco come vedete lassù ho già messo una striscia di guaina di copertura adesso coprirò un altro metro e poi metterò un'altra striscia di guaina in questo momento disponibile questa qui poi dopo lo finirò definitivamente cos'altro non faccio finestre non faccio niente farò una porta un po più larga qua in mezzo ecco quassù come vedete se non andrò a mettere un sostegno un supporto insomma la parte centrale tenderà a piegarsi quindi nel breve dovrò dovrò fare questa cosa andrò a mettere due listelli obliqui e un supporto centrale giusto proprio per rinforzare la parte centrale perché sennò qui tenderà ovviamente a piegarsi verso il basso purtroppo listelli così lunghi non ne ho tanti disponibili non ne ho tanti disponibili quando ho preparato l'interagliatura della casetta e quindi non ho potuto farlo ma posso farlo tranquillamente un secondo momento tanto come tutti sapranno legno è molto flessibile quindi non è agliacchia no stavo quasi per cadere adesso vado un po all'indietro così ve la faccio vedere un po da lontano visto che si inizia a vedere abbastanza qui ci sono ancora le due poltrone che avevo preparato nei vecchi video precedenti sono comode quando bisogna riposarmi riposo e comunque dai niente io per il momento mi fermo qua amici perché di nuove modifiche sulla casetta non ne ho tranne tutte queste cose che vi ho detto vi farò un prossimo video dove andrò a finire tutto il tetto insomma poi via dicendo andremo verso la conclusione anche di questa di questa playlist della casetta da 4 metri e mezzo per 3 ok amici ora mi fermo qua e ci vediamo al prossimo video ciao